Presentati! Ho fatto varie sfilate, ho fatto dei lavori per la L'Oreal e adesso dovrò partecipare alla finale del concorso Miss Small World. Io ho fatto quattro sfilate, partecipo anch'io al concorso Miss Small World e ho fatto anche il concorso Veline e ho appena partecipato a Ragazza Italiana. Hai mai lavorato nel mondo dello spettacolo? Eh, no, no. Sì, ho fatto delle sfilate per la L'Oreal, per dei prodotti di capelli. Se ne avessi la possibilità, cosa ti piacerebbe fare? Vorremmo fare uno stacchetto, insieme. Fai un appello al pubblico per farti votare? Sono brava, intelligente e votatemi perché mi piacerebbe tanto essere una comparsa nel film di Massimo Boldi. Votatemi perché sono simpatica, carina e che ho superato la mia timidezza per fare questo video.